Collega, stasera mi sono preso la licenza di chiudere la cena con un dolce un po' particolare, un po' diverso dal solito. Un tortino di zucchine su una crema al rum. Sono sicuro che lo apprezzarai. Perfetto. Parto preparando i tortini. In una ciotola ho messo dello zucchero con un uovo e vado a montare. Dopo aver montato l'uovo con lo zucchero, vado ad aggiungere nella ciotola farina di mandorla, farina 00 e un po' di lievito per dolci che avevo già preparato setacciate. In seguito aggiungo dell'olio di semi. Ora vado ad aggiungere una zucchina che avevo in precedenza grattugiato e lasciato scolare per eliminare l'acqua in eccesso. E continuo a mescolare il tutto. Nel frattempo Chef Michelone sta imburrando e infarinando degli stampini. Ora con il composto di farina e zucchine vado a riempire gli stampini che Chef Michelone gentilmente mi ha preparato. Ora i nostri tortini vanno in forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Sono passati 20 minuti, ho guardato attraverso la finestra del forno, mi sembrano pronti, quindi vado ad estrarre i tortini. Mentre i tortini si raffreddano vado a preparare la salsa che sarà la base di accompagnamento. La base di accompagnamento dei nostri tortini sarà una crema al rum. Ho messo sul fuoco un pentolino con della panna e del latte. Lo faccio scaldare senza arrivare a bollore. Nel mentre in una ciotola vado a montare dello zucchero con due tuorli d'uovo. Tolgo per un attimo dal fuoco la panna e il latte prima che raggiungano il bollore e vado ad aggiungere i rossi d'uovo che ho montato con lo zucchero. Mescolo con una frusta, riporto sul fuoco e vado ad arrivare ad una temperatura di circa 85 gradi tenendo mescolato un po' con la frusta sempre. Siamo arrivati in temperatura, tolgo dal fuoco, ora fuori fuoco vado ad aggiungere due cucchiaini di rum. Faccio raffreddare e serviremo la nostra crema a specchio sul fondo del piatto e sopra adageremo il tortino di zucchine. La nostra crema si è raffreddata, si è anche un po' addensata, i nostri tortini sono intiepiditi, andiamo ad impiattare e poi andiamo a tavola. Appoggio il tortino al centro del piatto sulla crema e porto in tavola. Grazie Chef Michelone. Prego. Molto interessante. Vedrai che mi sarai riconoscente. Intanto facciamo il nostro classico polindisi che non guasta mai. No. Dasta la vita. Dasta la vita. Michele ho dupie. Grazie. 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 Grazie.